salve a tutti sono micweb e siamo qui di nuovo per un nuovo tutorial riguardo wordpress oggi ci guardiamo un po' le pagine e la struttura prima cosa andiamo ad aprirci il nostro wordpress tutorial.micweb.info cartella per logassi vp-admin come al solito ecco la password l'avevo sbagliata l'avevo salvata sbagliata un attimo solo che password avevo messo? troppe password qui ecco questa dovrebbe essere giusta appunto la salvo ecco qui siamo sul dashboard faccio vedere un attimino il template prendiamo un altro template questo non mi piace molto prendiamo l'altro che avevamo fatto vedere l'altra volta andiamo torniamo indietro andiamo su aspetto temi mi cambio l'altro eccolo qui il template dove ci sono già configurati due menu così posso chiarire meglio attivo questo template non è chissà che adesso a questo punto andiamo su tutte le pagine cosa facciamo qui? semplicemente aggiungiamo una nuova pagina aggiungiamo il titolo della nuova pagina scrivo prima pagina qui aggiungo ad esempio una foto la solita foto che ormai conoscete benissimo molto intuitivo adesso adesso che faccio aggiungo un attimo metto un attimo in pausa da prendermi un test generico da mettere come esempio sono ritornato qui eccomi qui eccomi qui adesso aggiungo il testo lorum in possum dolores il classico testo perchè non ho tempo o non ho voglia di scrivere un testo completo semplicemente per darvi l'idea di come sarà la nostra pagina qui posso formattare il testo allineato a destra sinistra centrato posso spostare anche la foto la foto in mezzo al testo posso spostare la foto la foto messa a destra in parte al testo posso ingrandire la foto quindi molto semplice da gestire il contenuto della pagina metto la foto un po' più in giù insomma molto intuitivo quindi non serve che vada a spiegare oltre cosa faccio pubblico la pagina a questo punto aggiungo un'altra pagina aggiungo pagina ad esempio aggiungo pagina seconda giusto per intenderci aggiungo di nuovo una foto prendo la solita di nuovo aggiungo il testo che ho qui che ho sempre salvato qui solito testo ingrandisco un po la foto adesso pubblico la pagina a questo punto andiamo a vedere sul nostro online la cosa qui c'è la prima pagina seconda pagina pagina di esempio non è quello che volevo ottenere andiamo a verificare come possiamo modificare qui ho il menu pagina d'esempio pagina di esempio google ok cosa ho dimenticato di fare di aggiungere le nuove pagine ai menu andiamo sul menu tolgo qui ad esempio questo adesso il menu laterale tolgo aggiungo aspetta un attimo ok ci scegliamo il menu principale menu di sinistra tolgo questa pagina che non ci serve sono esempi della scorso tutorial tolgo anche google 3 non mi serve tolgo anche la pagina ad esempio la rimuovo a questo punto vado qui a sinistra pagina prima pagina e pagina seconda li aggiungo al menu adesso in teoria dovrebbero essere attive posto addirittura spostare la pagina seconda come sotto pagina di esempio molto semplice da gestire se avete una pagina e poi altra sotto pagina si possono così disporre salviamo il menu adesso andiamo a vedere eccolo qui pagina di esempio pagina di esempio e qui abbiamo le nostre due nuove pagine come sotto menu sotto prima pagina pagina seconda ok le mie pagine le ho messe adesso appunto come sottopunti di un'altra pagina qui è indifferente insomma secondo di come volete fare voi andiamo di nuovo tutte le pagine qui ho le pagine che posso gestire aggiungo una nuova pagina metto la pagina home la prima pagina questa volta scrivo questa è la pagina home giusto per interno se no non ci capiamo mai qui ci sono qui si può anche gestire dove deve essere piazzata la pagina home se deve essere una sottopagina di un altro di un'altra pagina salviamo andiamo come come vedete la pagina home non c'è perché ogni volta che creata una pagina dovete impostare anche il menu quindi adesso come vedete qui la pagina home qui è presente ma lo spiego dopo qui è un errore da parte mia che andremo a verificare in seguito adesso andiamo su dove andiamo su menu vedete questo è il menu secondario adesso prendo il menu principale quello in alto tolgo la pagina di esempio non la voglio la rimuovo tolgo anche il mio articolo non lo voglio lasciamo google mi seleziono la pagina la aggiungo al menu drag on drop me la posso spostare anche in alto adesso vado a vedere ecco qui adesso è la mia pagina se ci clicco sopra questa è la pagina la pagina home che ho creato allora quando create pagine dovete pubblicare le pagine e poi andare sul menu e salvarle sul menu che avete creato altrimenti le pagine non si vedono ok adesso andiamo un attimo a vedere gli articoli questo è l'articolo standard che c'è sempre presente andiamo a creare un nuovo articolo sempre il solito principio di come si gestisce una pagina articoli sono interessanti se ad esempio ogni fine settimana raccontate un evento un'escursione o qualcosa ha senso che ad esempio su una pagina viaggi ogni fine settimana fate un viaggio e volete raccontarlo ha senso sotto la stessa pagina di scrivere più articoli in questo caso dovete solo scrivere un articolo e poi pubblicarlo sulla pagina viaggi ad esempio ok il primo articolo è stato creato andiamo qui standard su wordpress si può definire quale sia la pagina per gli articoli wordpress è nato come blog blog vuol dire che vengono fatte degli articoli una volta al mese o due volte al mese una volta alla settimana questi articoli compaiono subito allora andiamo sul template pagina iniziale possiamo decidere quale pagina sia la pagina standard ad esempio voglio che la pagina standard sia la mia home e la pagina per gli articoli sia anche home cosa ho fatto in questo modo ogni volta che pubblico un articolo viene automaticamente salvato sulla pagina home andiamo a vedere andiamo sul nostro template adesso vado su home no ho sbagliato qualcosa scusate andiamo a vedere forse non ho salvato ho sbagliato perché la pagina iniziale in questo template deve essere diversa alla pagina degli articoli io ho impostato la pagina iniziale home e la pagina iniziale la pagina per gli articoli la pagina home mi sembra che in questo template non è possibile allora andiamo torniamo gli articoli ci sono gli articoli sono anche pubblicati sono due articoli quello standard e quello che ho pubblicato io primo articolo comunque da modificare non è che abbia sbagliato qualcosa qui ad esempio ho dimenticato il titolo primo articolo ci mettono il testo aggiorno poi poi cosa faccio si appunto questo template non mi permette di avere la prima pagina uguale alla pagina dedicata agli articoli quindi andiamo a cambiare andiamo a cambiare sul punto personalizza pagina iniziale statica pagina iniziale metto un'altra pagina iniziale oppure ad esempio la pagina per gli articoli sarà pagina seconda pagina home pagina iniziale mostro gli ultimi articoli mostro gli ultimi articoli guarda un attimo qui sono gli ultimi articoli che avevo pubblicato ok non ci siamo ancora nel risultato che volevo ottenere come vedete a volte si fa anche un po' di confusione pagina iniziale statica quindi devo cambiarla in questo caso cambiare la pagina iniziale metto la pagina iniziale la pagina seconda e la pagina per gli articoli rimane home adesso dovrebbe funzionare vediamo 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 se ho fatto giusto vado sul salvo chiudo qui vado sulla sulla pagina a questo punto questa è la mia pagina iniziale pagina seconda questa è la pagina iniziale ok adesso vado su home ah ecco qui adesso la pagina home ha tutti gli articoli che ho pubblicato ne sono solo due quindi fate attenzione come vedete ho un po' di confusione nel definire quale sia la pagina iniziale quale sia la pagina home quale sia la pagina articoli per questa volta è tutto scusate se ho fatto un po' di confusione spero di avervi comunque aiutato a capire come si gestiscono le pagine come si gestiscono gli articoli un saluto e la prossima volta grazie grazie